ora passiamo all'episodio 6 di star wars vision alla ballerina spia l'ultimo di questa giornata questo di uno studio francese che si chiama la cachette ed è di julienne cheng ed è quello che dicevo prima già come ho fatto più fatica a vederlo questo stile mi ha veramente distrutto io a livello artistico già avevo visto dei progetti simili so che gli studi francesi puntano molto su questa animazione ricordo anche un cartone animato che non era proprio quello stile ma che vidi da bambino sempre appuntamento belleville francese sa che me lo ha ricordato tanto c'è qualcosa né di quello anche me infatti però io ho già ho avuto quello scoglio di appuntamento belvila ai tempi e non so perché l'animazione francese di questo stile mi perde un po perché poi tutto il resto funziona anche qui potremmo definirlo nel canon perché siamo un momento della guerra civile galattica dice che vent'anni prima l'impero le ha preso il bambino suo figlio facciamo un calcolo è tranquillamente tra episodio 4 dopo episodio 4 e prima della battaglia di giacquo quindi prima della battaglia di endor è durante nel mezzo della trilogia originale potrebbe essere canonico sì perché alla fine anche qui è talmente micro che se trascuriamo il design trascuriamo alcune cose parla a fine di un centro di un luogo di cabaret in cui si sta organizzando una sorta di collaborazione con i ribelli con la ribellione qui citata per riuscire a sconfiggere questo impero che di nuovo porta via tutto ti priva addirittura del bambino e tu cerchi vendetta contro di lui però è quello devo dire che finora di questi sei sono sei su nove è quello che mi ha convinto meno purtroppo no in realtà allora questo 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 cortometraggio mi ha colpito di più probabilmente a livello grafico più che di storia perché di storia è molto semplice e soprattutto alcuni risvolti finali della storia alcune riflessioni che mi ha spinto più che quello che quello che succede in sé a differenza tua però lo stile d'animazione non mi ha dato fastidio anzi l'ho apprezzato soprattutto si vede che uno studio francese perché diciamo questo locale dove vanno anche se ovviamente uno stile diverso ma fa pensare un po al cabaret francese anche a locali come il moulin rouge o queste cose qui ma anche la storia francese proprio mi ha ricordato sotto il nazismo secondo me c'è proprio poi un collegamento storico che a livello proprio di di pensiero funziona beh a me ha fatto pensare alla storia di mata matari la ballerina che era una spia contro contro i tedeschi durante la durante la guerra anche qui abbiamo una ballerina che fa da spia per la ribellione quindi poi vabbè ovviamente francia il trauma dell'occupazione nazista durante la seconda guerra mondiale se lo ricordano molto bene quindi chiaramente molte ispirazioni molte ispirazioni vengono vengono da lì anche questa storia lo riflette però mi appunto l'animazione è piaciuta parte appunto come dice junk che gli stone trooper sono per la maggior parte senza casco tra il pubblico e ti fa capire che sono gente normale che purtroppo lavora per l'impero che sono lì e che ogni tanto nei mondi occupati fanno la fanno un po da padroni vanno a vedere anche questi spettacoli nei momenti di relax perché è una galassia non che non si conquista h24 bisogna anche far riposare le truppe no insomma poi tra l'altro mi fa anche una frase lì del comandante del degli imperiali avremmo dovuto distruggere questo posto tempo fa infatti durante la visione mi chiedevo strano che l'impero lasci cose così caratteristiche in una colonia perché ricordiamo che uno degli obiettivi dell'impero è piallare tutto l'impero vuole tutto uniforme tutto uguale tutto conforme a quella che è la visione di darsidius tutto deve essere uguale ogni tipo di diversità culturale deve essere abbattuta e distrutta perché l'unica legge è quella dei sit quella dell'impero per la gente comune quindi è particolare che l'abbiano che l'abbiano lasciato ovviamente la cosa finisce come finisce però appunto a livello grafico dicevo non mi è dispiaciuto soprattutto le fasi di danza le fasi di danza e di lotta con questi veli che si muovono questa questa coreografia e infatti mi collegava la ballerina o le coreografie come tu effettivamente hai usato il termine perfetto si addicono molto il movimento secondo me si addice molto e nei dialoghi che è un forse un po più statico mi convince meno siamo comunque a livello artistico che qui torniamo forse rispetto al precedente più è iconico più riusciamo a identificarlo verso uno studio francese più caratteristico quello precedente mi riportava più la prima stagione più sull'anime nonostante fosse uno studio sud coreano questo ha di per sé una matrice forte che dice ok io faccio questo e lo faccio con questo stile quindi mi riconosci però non lo gradisco io ci ammetto che proprio livello di gusto è un mio problema lo riconosco quindi sono felice che poi atteggia anche a tanti altri si è piaciuto sì sì no questo questo sì e tra l'altro la questione dell'impero che uniforma tutto si vede anche proprio nel personaggio nel capitano della guarnigione che scopriamo essere il figlio di questa ballerina che lei credeva di aver perduto lo vediamo proprio su di lui la pialla imperiale perché lei non ho capito che specie siano mi ricordavano un po gli zabrak ma non sono sicuro perché avevano solo due cornini ma alla fine non non è importante sta di fatto che comunque la cosa importante che appunto era una specie una cultura diversa e questo questo bambino è stato diciamo adottato da un ufficiale imperiale che gli ha tagliato le corna gli ha cercato un occhio per non far vedere che aveva l'eterocromia per uniformarlo a quella che è la visione imperiale lui non è un umano ma lo ha spacciato per un umano quindi quella quella mi è piaciuta c'è un individuo che ha sperimentato su di sé la l'oppressione imperiale perché hanno bruciato il suo mondo l'hanno strappato a sua madre hanno cercato di trasformarlo in quello che non è si chiude con una nota di speranza perché la madre gli ha lasciato il medaglione con un segnalatore in modo che possano poi eventualmente ritrovarsi non non si sa però da questa parte dell'episodio oltre all'aspetto grafico mi è piaciuto c'è la crudeltà imperiale anche nelle piccole cose noi siamo abituati a immaginarci comunque l'impero anche la macro guerra alleanza ribelle impero jedi sit bla 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 e a volte fortunatamente adesso meno grazie a prodotti come roguano andor ci dimentichiamo come l'impero ha influito sulla gente comune cioè storie di vite spezzate perché sì perché d'arsidius voleva così anche qui un padre cioè una madre un bambino un figlio separati il figlio stava diventando era diventa quasi diventato qualcosa che non che non era è una bella cosa da questo punto di vista credo che sia la parte più apprezzabile di questo episodio sono d'accordo perché qui è addirittura peggio abbiamo visto nel terzo episodio tra le stelle che si tenta di distruggere le tue radici quindi distruggere chi sei qui non è distruggere chi sei qui è cambiare la tua natura è ancora più spregevole trasformarti una pedina del regime che ha distrutto la tua famiglia la tua popolazione le tue il tuo passato e quindi forse è rubarti proprio l'identità e renderti uguale a tanti altri quando tu effettivamente non lo sei e l'ho trovato anch'io forte come effettivamente elemento finale e mi ha colpito la conclusione mi ha colpito condivido con te perché non me l'aspettavo mi aspettavo qualcosa di più all'acqua di rose magari come gli altri conclusi alla bene meglio è vero che c'è speranza però è quella speranza fievole che ti fa chiudere l'episodio dicendo alla fine nonostante tutto nel mio caso che mi ha convinto meno animazione nonostante tutto l'ho visto volentieri perché il finale valeva il viaggio sì assolutamente assolutamente sì ed è bella anche bella anche a livello visivo cosa banale per carità ma la banalità se è resa bene è comunque efficace fatto che il sole sorga quando la madre lo abbraccia quando la madre gli dice perché nascondi la tua vera natura lei si rifiuta di combatterlo l'abbraccia in quel momento il sole sorge perché il momento in cui lui capisce che c'è qualcosa che c'è qualcosa che non va la luce l'accento dell'amore che in un abbraccio riesce per l'appunto a riesumare magari un sentimento che era stato soppresso e che vediamo mitaforicamente poi anche nella trilogia originale con veder qui è proprio rappresentato con questo sole che si accende quindi che sorge esatto esattamente quindi ce ne sono di momenti di momenti apprezzabili anche in episodi che magari non ci non ci soddisfano del tutto con cui magari facciamo facciamo fatica con la con l'animazione ma per me come scusa se ti interrompo no no ci mancherebbe ci mancherebbe magari finiti gli ultimi tre episodi faremo un'ultima diretta una quarta guardandoci anche il documentario di cui parlava carlo nel dietro le quinte che mi ha scritto nel gruppo abbonati perché secondo me a livello di concept ci sono molte idee belle però magari si parte dall'idea di questo sole che alla fine in un abbraccio si costruirà e da lì man mano vanno scrivere quindi magari abbiamo dei punti deboli perché io a livello di concept mi innamoro di questa serie a veramente delle immagini che metterei come poster magari scricchiola un pochettino poi nella scrittura vero che sono cortometraggi in breve bisogna riuscire a trasmettere qualcosa ed è una difficoltà di questa serie qualche studio riesce meglio qualcun altro meno ma ugualmente hanno quell'immagine quel frame quella sequenza che ti rimane nel cuore ed è questa la cosa la cosa bella cioè collegava anche la la prima stagione ma qui in particolare soprattutto per certi versi io sto apprezzando molto di più questa seconda stagione rispetto alla prima perché la varietà cioè comunque la prima stagione erano molto belli per quanto mi riguarda però era solo una parte del mondo perché appunto erano solo studi di animazione orientale che per carità era una scelta ripeto alcuni sono stati molto belli però era un'unica parte del mondo che aveva la sua visione qui abbiamo avuto spagna corea del sud abbiamo avuto la francia ecco una cosa che mi dispiace che non ci sia nessuno studio italiano magari nella cosa mi sono detto dai che ne prendono uno che ci sarà invece no terza stagione prendetene uno ma guarda allora io ti dirò secondo me visto che si stanno facendo un nome la lo studio che sta lavorando alle serie di zero calcare secondo me se lo meriterebbe secondo me si mi riesce appunto hanno preso studio a tutto il mondo se magari mantengono la stessa linea anche per altri paesi che non hanno preso in considerazione in questa in questa seconda stagione se ne fanno una terza venite da noi venite ce ne sono di bene di belli studi di animazione qui in italia anche noi italiani possiamo possiamo dare la nostra visione vi prego fa date date un corto di vision stagione tre uno studio italiano perché appunto ci sono venuti in europa in francia in spagna in altri anche in altri in altri paesi mi ricordo tutti i paesi di tutti questi 66 corti purtroppo ma rosa abbiamo inghilterra e europa come continente ormai c'è il brexit il conto della brexit diciamo però contiamo continente europeo irlanda e inghilterra di quelli visti e abbiamo francia abbiamo detto poi spagna e per ora basta prima perché abbiamo abbiamo poi cile abbiamo sud corea e basta sono questi per ora questi poi gli altri non so dove siano stati realizzati ancora neanche io lo vedremo settimana però appunto venite venite da noi cioè ce ne sono di studi di studi di animazione che con i controcacchini da venite venite date un episodio anche all'italia anche noi abbiamo le nostre visioni di star wars avanti io ci spero io ci spero che che ci sia uno studio italiano nella prossima stagione se faranno una una prossima stagione quindi perché appunto sarebbe carino perché la visione la visione spagnola mi è piaciuta questa francese per certi versi per certi versi appunto mi è piaciuta anche lo studio ma in generale tutti gli studi mi piace appunto il pregio di questa seconda stagione che c'è molta varietà ci sono più parti del mondo varie visioni varie storie venite in italia venite un po di orgoglio nazionale ma anche oggi sono rimasto male del fatto che non ci fosse io do per scontato una terza perché è un progetto che alti e bassi come tu hai detto effettivamente io la prima ho fatto veramente fatica qui ci sono episodi in cui faccio fatica però poi so che ne arriva un altro magari di un altro studio che più nelle mie corde che riesce meglio rappresentare a livello di colori o a livello proprio di struttura una mia percezione di ciò che mi piace vedere nella serie animate perché io ad esempio sono un po meno per gli anime meno per alcuni stili come questo però ci sono altri che mi convincono o di cui mi innamoro e di cui guarderei mesi e mesi ore 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 di di pellicole di cortometraggio film tuttavia il fatto che manca l'italia e mi sono detto ma perché perché l'italia è vero che starlos in italia ancora una nicchia piccolissima rispetto magari a francia che abbiamo visto che la fantascienza con dune in francia dune è uno dei più seguiti da più in francia di un quasi che in america perché c'è un attaccamento e di un soprattutto quello di lince spopolò in sudafrica in giappone e in francia c'è un amore in francia così appassionati di dune c'è un amore lì per dune tant'è che quando doveva farlo judoroski era nel castello francese perché partivano lì con tutta questa lo judoroski dune che dovevano fare partiva lì con sidux che era produttore perché avrebbero dovuto farlo produzione francese la fantascienza va più fuori dall'italia in italia siamo ancora una nicchia ristretta e anche star wars per quanto sia tra i più conosciuti non va tanto come in altri paesi europei beh questo sì però non sarebbe un prodotto che vedrebbero solo gli italiani cioè comunque è una serie che in tutto il mondo e tutto il mondo sta vedendo il lavoro di questi studi quindi perché non dare la possibilità anche a uno studio italiano di fare di farne uno perché appunto lo vedrebbe tutto non è che resta confinato in italia che lo vede solo la nicchia di fan italiani lo vedrebbe pubblico di tutto il mondo ma per me nella terza ci penseranno poi calcherò la mano scrivo una lettera disney mi ascolteranno mai ma scriverò una lettera dicendo come ha detto già anche un jedi romano della garbatella che deve affrontare un viaggio interiore con un sit armadillo che sarebbe zero calcare poi rifatto a livello di star wars e cioè qualcosa di simpatico come ha detto giacomo quello uno studio che ha del potenziale perché a livello di netflix l'hanno visto in tutto il mondo non solo noi in italia e si la doghead animation si e maggior ragione riuscire a dare una nostra interpretazione che cos'è star wars ci manca in italia è vero che forse essendo così di nicchia manca io mi accorgo che manca un concetto italiano di cose star wars noi andiamo molto su qual è la visione americana perché finché non siamo arrivati magari il mio canale su youtube tu che ne hai parlato giacomo sui tuoi lidi o qualcun altro star wars the brain comics empire e vari colleghi la maggior parte guardavano video americani e quindi abbiamo sempre fino più o meno 2015 2016 quando abbiamo iniziato a imporci anche su youtube noi piccole nicchie c'era molto un prendere dall'america e quindi non abbiamo una community abbastanza forte unita che ha una sua idea di star wars italiano però per me si sta formando c'è un sentimento a riguardo che potrebbe dimostrarsi bene in una serie in un corto animato tu dici non c'è io dico magari c'è ma non è stata ancora espressa perché non c'è stata ancora occasione perché mi sembra impossibile che magari qualcuno non abbia una sua idea l'altra è paradossale visto che abbiamo molto di italia in star wars perché molte location sono sono italiane di star wars è venuto in italia c'è abbiamo il lago di como abbiamo la regna di caserta la lava di mustafar che è quella che è basata su quella dell'etna ma sei perché è stata italia in star wars sai perché giorgio lucas è fissato con italia era fissato perché perché lui era un amante di macchine voleva fare il pilota a tutti i costi e suo padre quasi rimesso la pelle bravissimo esatto suo padre era un appassionato di macchine lui era ancora minorenne non poteva ancora guidarla aveva 15 anni si è fatto regalare una bianchina da corsa italiana lui si è schiantato a causa poi di un coetaneo che arriva dalla direzione opposta si è rotta la cintura esatto si è rotta la cintura se non sarebbe morto come james dean è volato fuori gli hanno portato il diploma praticamente che era allettato distrutto il bacino eccetera però da lì ha riscoperto una seconda vita quindi il fatto che fosse sulla bianchina italiana ha detto io non corro più ha avuto questo richiamo verso l'italia che da lì in poi si è detto ok quando posso io devo all'italia il fatto che ho scelto la mia carriera come regista c'è questa cosa che se ci pensiamo un po eros etanatos psicologica psicoanalitica che freude potrebbe scriverci un libro a riguardo ma quella mancata morte sull'auto di fattura italiana lo ha portato può essere il giorgio e lucas che conosciamo che altrimenti sarebbe stato più che un pilota da corso meccanico lui era un po' anakin skywalker aveva modificato quella macchina l'anakin dei prequel e giorgio e lucas ragazzino sì in un certo senso sì e probabilmente non sarebbe vivo se sarebbe stato un ragazzino di una pagina di cronaca locale morto giovane ragazzo di modesto cioè sapevo dell'incidente perché lo sanno tutti non mi ricordavo che la macchina fosse una bianchina italiana non mi ricordavo io a volte mi sono mi sono divertito a immaginare una timeline in cui lucas è morto in quell'incidente un universo senza star wars che ha più ramificazioni di quanto potreste io mi sono divertito a immaginarmelo ma ha più ramificazioni di quanto potreste pensare un universo senza star non solo a livello di cinema ma a livello di culture di effetti speciali perché senza star wars non avremo la industria light e magic quindi come sarebbe andata l'evoluzione della della macchina cinematografica quelli quell'incidente è un punto focale della storia il fatto che la cintura sia saltata e l'abbia salvato esisterebbero il film marvel non credo ad esempio perché i film marvel partono con una struttura blockbuster di effetti visivi come tu hai detto che parte da lì il fatto che la fantascienza era considerata cinematograficamente genere di serie b ma diventò serie a parte da lì a livello il rilancio di certi archetici archetipi anche è vero cambierebbe tante di quelle cose che che è pazzesco cioè per come andata sarebbe un votif in quel caso da mettere in vision potremmo fare lo studio italiano se vi scelgono venite da me giacomo vi proponiamo una buona storiella a riguardo magari questo votif che non farebbe nessuno perché sarebbe proprio prendere george lucas e come sarebbe andata non una storia ambientata nell'universo di star wars va sul creatore di star wars pensateci sarebbe una valida idea purtroppo bisognerà vedere anche magari quali saranno magari le tematiche che daranno però saranno sempre tutte storie interne alla timeline ovviamente quello sarebbe un esperimento un esperimento estemporaneo però appunto c'è tanta italia in star wars chiamate uno studio italiano ce lo meritiamo venite venite questo appello con anche chi guarderà dopo la questa diretta o questo estratto andate a rompere le balle alla lucas film vogliamo un episodio di star wars vision stagione 3 fatto da uno studio di animazione italiano direi che ce lo siamo meritati condivido infatti sostengo l'appello e magari lo replichiamo prepariamo anche una sorta di pagina si potrebbe fare con delle firme virtuali e gli le mandiamo che più siamo meglio è ma leggendo junk che scrive in un mondo del genere senza star wars starei difendendo con maggiore rilevanza l'operato di sauron e dei poveri orchi incompresi perché giustamente non avendo stormtroopers e impero sarebbe dalla parte della fantasy che probabilmente ha ragione saremmo più signore degli anelli avremmo più una struttura forse legata dalle opere più medievali come poi era sempre stato a livello magari di riertù tavola rotonda sarebbero quelli blockbuster che vedremo ancora con le spade non laser ma più più realistiche più medievali ma giacomo riguardo la ballerina spia ancora qualcosa da aggiungere no allora le cose essenzialmente le ho le ho dette tutte nel senso che l'animazione appunto mi è mi è piaciuta la questione del del figlio l'ho l'ho apprezzata e ecco in generale proprio come l'episodio delle delle due sorelle la volta scorsa un grosso pregio che posso dare a questo episodio che mi ha fatto venire voglia di vedere più storie sulle gente comune durante l'impero e più storie piccole questa è una storia piccola nel senso che riguarda una piccola parte della lotta della ribellione ma riguarda una storia privata come l'impero influisce sulle persone normali e i corti secondo me sono lo spazio migliore per farle quindi vorrei più storie così quindi questa tipologia di storie mi piace e ne vorrei di più potrebbe essere una direzione effettivamente della terza stagione cioè vedere tutti studi che interpretano un trauma vissuto da una famiglia da una persona civile riguardo all'arrivo di questo impero magari la butto lì perché se abbiamo visto sempre che io ricordi del meno di quelli che ho visto dal punto di vista dei buoni finora dei cattivi non si è visto niente e magari perché no vedere uno stormtrooper che alla fine lavora per l'impero per scelta personale o perché indottrinato io ce lo vedrei un po anche l'altro lato l'altro punto di vista che in parte si collega anche a uno dei romanzi del nuovo canone più belli che ho letto però lo stars di claudia gray dove c'è la coprotagonista femminile che è un imperiale convinta le crede veramente negli ideali imperiali salvo poi la ovviamente alla fine capire che l'impero è marcio però per la gran parte della storia lei ci crede lei non è indottrinata e crede sinceramente che l'impero sia la soluzione migliore quindi più personaggi come lei sono d'accordo ci porterebbe proprio ad avere anche un'analisi diversa perché noi tendiamo proprio come prima scritto junk che prima del dell'episodio riguardo questo della ballerina spia prima di allora gli stormtrooper sono sempre molto generici finalmente dargli un volto sono anche loro delle persone e come tutte le persone sono cattive in questo caso nell'ambito di star wars però come tutte le persone hanno anche loro un mondo dentro e lo vediamo nel figlio di questa ballerina spia che alla fine anche lui è stato privato dell'identità ha un mondo dentro che è stato quasi cancellato ma forse in quell'abbraccio si è finalmente risvegliato così finisce non sapendo cosa ci attenderà ma forse anche il bello sperare crederci oppure no in un finale più commovente ma anche oggi noi abbiamo finito vi aspettiamo settimana prossima con gli ultimi tre episodi poi anche star wars vision è finito qui io ringrazio come sempre il signor giacomo per avermi accompagnato accompagnato in questa bella analisi ringrazio lei se ora emilio è sempre un piacere parlare di queste cose in calma e tranquillità e nei suoi spazi quindi sono sempre contento di di essere qui saluto anche la tua chat la tua community e alla prossima con gli ultimi tre episodi che appunto non so di che nazionalità siano gli studi ma vediamo vediamo da dove da dove vengono lo scopriremo strada facendo e vedendoli perché siamo ancora all'oscuro di quali siano i prossimi almeno io adesso non so che studi mi attendano quali episodi non ricordo nemmeno dal trailer forse ce n'è uno indiano credo dalmeno dalle fattezze che ricordo un po nel trailer ma non sono sicuro quindi potrei essere smentito e sarò felice di esserlo come sempre grazie a tutti per averci accompagnato grazie agli abbonati grazie a chi arriverà dopo lasciate un bel mi piace come sempre che la forza sia con tutti voi grazie a tutti